I dettagli sono fondamentali per noi, donne, e non solo, ma specialmente nell'ambiente virtuale, perché tutto si amplifica in ogni dettaglio. Ad esempio, scrivere un commento senza mettere like è un dettaglio non da poco, dipende certo da chi lo fa, con che frequenza lo fa e perché lo fa, ma è davvero una stronzata. E' un gesto brutto, cattivo, soprattutto quando noti che la persona che ti mette il commento, poi neanche lusinghiero, magari con delle allusioni, delle cose, e poi scopri magari che con altri e altre è molto attenta a ricambiare, a mettere il like con il cuoricino e fare le cosine, perché i dettagli sono importanti soprattutto per te, soprattutto per chi fa queste stronzate. lai 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 la Menziamo l'attenzione. Facciamo attenzione ai dettagli.